La sanzione è pesante ma non quella temuta. Il Foggia non è stato retrocesso in Serie C come chiesto dalla Procura federale ma il prossimo campionato di Serie B lo comincerà con 15 punti di penalizzazione. Una mazzata seppur mitigata rispetto ai timori di questi giorni che diventa accettabile visto che dopo averla conservata sul campo la Serie B sarà ancora il campionato di competenza per i rossoneri. La sentenza del Tribunale federale è arrivata nella tarda mattinata. Se il Foggia è stato condannato con 15 punti di penalità la mano pesante dei giudici federali ha riguardato soprattutto i patron della società rossonera. A Fedele Sannella sono stati inflitti cinque anni di inibizione, quattro a suo fratello Franco. Tra i tesserati anche gli ex del Foggia finiti sotto processo per i pagamenti in nero nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017 le pene più pesanti riguardano l'ex allenatore Roberto De Zerbi, squalificato per tre mesi, i calciatori Angelo, Arcidiacono, Martinelli e Sanchez. Anche per loro sono arrivati tre mesi di squalifica e l'ex direttore sportivo Beppe Di Bari fermato per due mesi. Pene che variano dalle quattro alle due giornate di squalifica invece sono state emesse nei confronti degli altri calciatori coinvolti in questa storia. Sarno, Vacca, Iemmello, Chiricò, Tito, Agnelli, Gerbo, Mazzeo, Guarna, Tarolli, Floriano, Empereur, Narciso, Padovan, Sainz, Mazza, Quinto e Agazzi. Prosciolto il presidente Lucio Fares. Mercoledì prossimo il Foggia presenterà il nuovo tecnico Gianluca Grassadonia al quale toccherà il compito di centrare nuovamente la salvezza in Serie B ma partendo da una penalizzazione di 15 punti. Impresa difficile ma meglio che finire in Serie C.